L'iter va avanti, le scadenze sono quelle che tutti conoscevano e che tutti conosciamo. C'è il 31-12 che arriva, gli uffici stanno lavorando, gli uffici stanno lavorando nella direzione dettata e annunciata dal sindaco Nardella l'adozione della variante per quanto riguarda il puo di castello per installare lì il mercato.